Benvenuti a questo nuovo filmato. Ci occupiamo dei vincoli, i vincoli geometrici che controllano il comportamento delle primitive che noi pian piano inseriamo per costruire il nostro schizzo. Allora, cominciamo subito a manovrare una linea. Se io inserisco questa linea, vedete che ha quattro quote necessità per essere bloccata di quattro quote. In sostanza questa linea è completamente libera. I due estremi, i due punti, l'inizio e la fine, possono andare in qualsiasi punto dello spazio. Allora, mettiamo un vincolo di orizzontalità. Mettiamo un vincolo di orizzontalità e vedete che le quote sono diminuiti, i gradi di libertà sono diminuiti, sono solo tre quote necessarie. E se adesso, ok, confermiamo, io prendo uno di questi punti e cerco di spostarlo, vedete che la linea si sposta solo orizzontalmente. Se torno indietro un attimo e tolgo il vincolo di orizzontalità, lo cancello, invece se io prendo lo stesso punto che ho preso prima con il vincolo di orizzontalità, vedete che la linea da orizzontale può diventare comunque diretta. Quindi i vincoli bloccano mano a mano le primitive geometriche che noi inseriamo. Un'altra cosa, allora, se io costruisco un'altra linea dopo la prima e mi avvicino, quanto direte voi, un po', finché non vedete, adesso lo vedete in... eccolo qua. Quando il puntino giallo diventa un puntino verde vuol dire che lui è andato a prendere qualche cosa di particolare. E se io adesso clicco con il tasto sinistro e costruisco la seconda linea, mi ritrovo con due linee e sei quote necessarie. Che cosa vuol dire? Vuol dire che, allora, una linea era quattro, due linee non con punti in comune, ne hanno otto, avendo messo in comune un punto, quindi lui ha trovato da solo un vincolo, sono sei. Ecco, questa operazione non è una grande operazione in Inventor. È preferibile, adesso io cancello, fare, torniamo a quattro quote necessarie, fare, se devo costruire due linee o due qualsiasi cosa, costruirle in maniera che siano completamente libere, otto quote necessarie, e poi magari andargli a dire che gli estremi, adesso poi ci torneremo su questi vincoli, adesso guardate solo lo sviluppo, capite il concetto, che questi due estremi coincidono. Allora, io ho imposto, e non l'ha trovato il programma da solo, che i due estremi finale e iniziale delle due linee vadano a coincidere e quindi ho eliminato due gradi di libertà, sei quote necessarie. Andiamo avanti. Lascio lo schizzo così, mai e poi mai. Cioè, uno schizzo che sia robusto, si dice in modellazione solida, deve essere completamente vincolato. Quindi io aiutandomi con queste indicazioni di inventor, che leggo qui nella barra di stato sulla destra, e aiutandomi con i vincoli, devo completamente vincolare questo schizzo. Perché? Perché una volta che io lo apro, lo chiudo, lo salvo e ci faccio qualcosa, e poi dopo sviluppo il mio disegno, la mia parte 1, con tanti schizzi, se voglio tornare a modificare e fare qualche operazione, se questo non è vincolato, può succedere di tutto, anche che il disegno salti. Quindi è proprio necessario che gli schizzi, man mano che noi li terminiamo e andiamo avanti a sviluppare la nostra parte con tanti schizzi uno dietro l'altro, che questi schizzi siano completamente vincolati. I disegni in cui gli schizzi che sono completamente vincolati si dicono robusti. Robusti perché hanno anche un comportamento prevedibile e ripetibile, cioè in ogni momento io li vado a riaprire per fare qualche cosa, si comporteranno nello stesso modo, indipendentemente da quello che è stato fatto dopo o che è stato fatto prima. Se non sono robusti, è un bel guaio. Come visualizzare i vincoli che abbiamo inserito nel nostro schizzo? Allora, qui se sei quote necessarie, se vi ricordate, abbiamo messo un solo vincolo che riguarda la coincidenza del punto finale e del punto iniziale di queste due entità. Per capire meglio quello che sto per farvi vedere, mettiamo anche un vincolo verticale per questa entità e mettiamo un vincolo orizzontale per questa entità. Inquadriamo il nostro schizzo e allora concludiamo il vincolo orizzontale. Ok. Come posso vedere gli schizzi? Chiaramente quattro quadri è necessario perché ho messo una coincidenza, ho tolto due gradi di libertà, quindi poi ho messo un verticale e un orizzontale. Quindi ho tolto altri due gradi di libertà, da otto siamo scesi a quattro. La cosa più semplice per vedere che vincolo abbiamo messo è quella di portarsi e selezionare l'entità di cui voglio conoscere i vincoli inseriti. Vedete che avendo selezionato la linea orizzontale mi fa vedere i due vincoli inseriti che sono l'orizzontalità e la coincidenza del punto finale con il punto iniziale dell'altra. Se adesso io seleziono quest'altra avrò altri due vincoli diversi, verticalità e coincidenza. Quindi per vedere i vincoli la prima cosa è selezionare. Oppure posso mostrare i vincoli in questa maniera. Mostra tutti i vincoli, quindi ci ho acceso, lo spengo, lo metto in situazione di spegnere perché il comando qui funziona con una logica che mi fa vedere l'iconcina mi fa vedere che cosa succede se io clicco su quel bottone. Quindi in questo momento è accesa, tutti i vincoli sono accesi, vedete, mostra tutti i vincoli, i vincoli sono accesi e se io clicco li nascondo, per questo vedo questo. Allora, anche qui i vincoli sono tutti mostrati indipendentemente dall'entità a cui sono applicati. Qui c'è il vincolo di orizzontalità per questa linea. Tra l'altro se vado sopra il vincolo, vedete, mi fa vedere a chi è applicato. Se vado sopra il vincolo, mi fa vedere a chi è applicato. Se vado sopra il vincolo, il primo, il secondo, mi fa vedere a chi è applicato la coincidenza dei due punti finale e iniziale. La terza strada, adesso io qui spengo, è quello di inserire questo filtro che sta qui nella zona dei vincoli, accanto ai vincoli, e andare a cliccare sull'entità di cui, andare sopra l'entità di cui voglio i vincoli. Allora, mostra i vincoli di questa, e me li fa vedere, orizzontale e coincidenza. Mostra i vincoli di questa, quindi senza cliccare, solo portandomi sopra, verticale e coincidenza. Quindi tre sistemi per vedere i vincoli. E allora la domanda, adesso questo lo togliamo, la domanda credo nasca, ok, la domanda credo nasca spontanea, ma se i vincoli tolgono i gradi di libertà, come faccio a vedere i gradi di libertà? Allora, come faccio a vedere i gradi di libertà? Le quattro quote necessarie le deduco dai gradi di libertà. I gradi di libertà mostrano tutti i gradi di libertà. E allora vedete che con queste frecce rosse mi fa capire quali sono i gradi di libertà. in sostanza a questo punto può viaggiare, questa asta può andare, questa linea può muoversi orizzontale, questa può muoversi, scusate, verso l'alto, verticale, sull'asse Y, questa può muoversi sull'asse X. Nessuno può ruotare, perché avendo messo il vincolo di orizzontale e di verticale, non può ruotare. Quindi quattro quote necessarie. Quattro quote necessarie, io adesso lo finirei per farvi capire uno schizzo robusto che cosa vuol dire. Devo portare a zero questo numero qui, quattro. Allora, se questo lo posso spostare, mi servirà una posizione per metterlo. E anche se questi li posso allungare, questo punto e questo punto, mi serviranno delle dimensioni. Allora, attenti, anche se ha poco senso. Se io metto questa quota, sette. Se io ho tre quote necessarie. Se io metto questa quota, dieci. Attenti anche quando schiaccio l'invio a quanti di quelle frecce rosse cambiano. Nessuna freccia. Due quote necessarie. Se io gli dico che questo punto, o un punto qualsiasi, questo punto, coincide con l'origine dello schizzo, col punto centrale, le frecce sono sparite, gradi di libertà, questo oggetto non ne ha più, questo schizzo non ne ha più, e qui la conferma completamente vincolato. Questo è quello che dovete ottenere in qualsiasi schizzo voi andiate a lavorare. I disegni in Inventor funzionano se gli schizzi sono fatti così. Sono ripetibili, robusti, il comportamento è prevedibile, completamente vincolati. Quindi, ricapitolando, tre modi per vedere i vincoli che sono applicati questo, questo e andare sopra l'entità. Ok. E un solo modo per vedere i gradi di libertà. Si finisce, siccome i gradi di libertà sono usatissimi per capire come devo finire di vincolare uno schizzo, finisce e stanno solo qui, si possono accendere solo qui, si finisce per usare questi due bottoncini qui, queste due icone qui, per visualizzare i vincoli e per visualizzare o nascondere ovviamente i gradi di libertà. E questo finisce per essere pochissimo utilizzato. L'altra strada è quella di cliccare sopra un'entità e questa è anche una di quelle usate per vedere i vincoli. Ok. Adesso andiamo, cominciamo a vedere i vincoli uno per uno. Allora, vincolo di orizzontalità e vincolo di perpendicolare, di... scusate, di verticalità. Li abbiamo già visti e già applicati. Quindi sostanzialmente ci dicono come dirigere una linea secondo l'asse X o secondo l'asse Y. Dipende dallo schizzo e dal sistema di coordinate locali. Vincolo di parallelismo e vincolo di perpendicolarità sono qui a fianco. Quindi verticale, orizzontale, perpendicolare, parallelo. È abbastanza semplice. Costruiamo un'altra linea e gli diciamo di essere parallela a questa. Costruiamo un'altra linea e gli diciamo di essere perpendicolare a questa. Non è importante se non hanno punti in comune, se hanno o non hanno punti in comune. Sono due vincoli che ne fissano la posizione reciproca. Per cui, se io poi accendo sei quote necessari e gradi di libertà o tento di spostare, viene mantenuto la perpendicolarità tra questi due e viene mantenuto il parallelismo tra questo e questo. E ancora, se io evidenzio questa e clicco sul vincolo sul simbolo di parallelo vedete mi fa vedere a che cosa è parallelo. Se clicco sul simbolo se clicco se porto il mouse vicino al simbolo di perpendicolarità mi fa vedere a che cosa è perpendicolare. In più se faccio anche così o mostra tutti se clicco sul perpendicolare mi fa vedere il perpendicolare sul parallelo mi fa vedere il parallelo e evidenzia in rosso l'entità parallela e evidenzia in rosso l'entità perpendicolare. vincolo di tangenza costruiamo un cerchio e diciamo che questo cerchio è tangente questo è il simbolo della tangenza a questa entità e dice ma è vero non è vero sì è vero anche se le entità non si toccano e noi pensiamo alla tangenza questa se io la prolungo va esattamente in tangenza al cerchio se adesso dico anche che il cerchio è tangente a questa vedete e ancora confermo e poi vado a evidenziare i vari vincoli eccoli qua questi sono tangenti retta e cerchio questa è l'altra tangenza retta e cerchio ok quindi questa retta questa tangenza qui e questa è la stessa identica cosa vincolo di collinearità eccolo qua allora costruiamo un'altra linea qualsiasi e poi diciamo che questa linea è collineare a questa qui è stato imposto di essere orizzontale e vedete che anche questa diventa orizzontale ma non compare su questa il simbolo di orizzontalità ma il simbolo di collinearità per cui se io per esempio qui rompo la perpendicolarità e gli dico che era il parallelismo perdono più che la perpendicolarità era il parallelismo scusate il parallelismo per cui questa può fare questa rotazione che adesso non riesco a fare perché probabilmente la perpendicolarità esatto me la blocca cancella anche la perpendicolarità se io questa la ruoto vedete che è ruota anche quest'altra si mantiene collineare un altro vincolo abbastanza interessante è il vincolo di coincidenza quindi collineare è usato è il vincolo di coincidenza se io gli dico che questo punto coincide con questo tutto si sposta tutto ciò che non solo quella retta ma anche le altre che gli sono in qualche maniera l'inquadate si sposta in maniera che il suo punto iniziale della retta coincida col punto finale di quest'altra retta se adesso io ripristino o il parallelismo o l'orizzontalità mi riporto nella condizione di prima e in più ho chiuso questo spigolo altro vincolo interessante è il vincolo di concentricità allora costruiamoci questa nuova circonferenza se io voglio che le due abbiano lo stesso centro mi basterà dire questa e questa e la più piccola si sposta la meno vincolata perché questa non aveva nessun vincolo questa ne aveva già di vincoli si sposta esattamente sull'origine dell'altra il vincolo di punto fissato allora di fissaggio beh se esc queste due circonferenze al momento vedete che possono fare possono muoversi cambiando anche il diametro perché mantengono poi tiriamo via questa linea e tiriamo via anche questa via se adesso le posso muovere liberamente quasi c'è qualcosa ancora che non qui c'è una tangenza via le posso muovere liberamente e vedete posso spostarle dove voglio se queste io le voglio fissare in un certo punto gli dico blocca questo il loro centro a questo punto queste due circonferenze io non le sposto più da nessuna parte l'unica cosa che posso fare per queste circonferenze vincolo di schizzo già esistente scusate l'unica cosa che posso fare è cambiare nel diametro ma sicuramente non spostarle ok questo è il vincolo di uguaglianza allora vediamo anche questo questa qui ok uguale questa a questa non gli ho imposto di essere parallele ma gli ho imposto di essere uguali cioè la lunghezza di questa se vado a quotarla allineata è uguale alla lunghezza di questa eccole qua stessa roba l'aggiunta ipervincolo allo schizzo questo è un messaggio che poi impareremo a gestire perché chiaramente essendo uguali io questa quota non aggiunge niente allo schizzo la posso solo accettare come una quota tra parentesi tonde che vuol dire che è una quota ausiliaria per cui se questo questo me lo dice il vincolo di uguaglianza la faccio diventare 8 questa quota ausiliaria diventa anche lei 8 rispecchiando che essendo uguali si è allungato anche il secondo il vincolo il vincolo di simmetria è il vincolo di levigato ok per il vincolo di simmetria penso sia chiaro rispetto a un asse rendo qualcosa di uno schizzo simmetrico rispetto a un'altra parte non faccio nemmeno l'esempio lo utilizzeremo nel momento lo utilizzeremo la prima volta magari ne parleremo e anche il vincolo di levigato il vincolo di levigato la tangente questa dà una continuità sulla derivata prima sulla tangente e questa dà una continuità sulla derivata seconda quindi sulla curvatura quindi qui l'ELP dice applico una condizione di curvatura continua alla spline dovrei costruire una spline per farvela vedere anche qui è la prima volta che avremo necessità comunque questi due vincoli simmetria e levigato non sono tra i più usati quelli più usati sono quelli che abbiamo visto fino adesso e ce n'è uno in particolare l'orizzontale e il verticale di cui devo dire ancora un'ultima cosa allora questa figura è completamente cancelliamo abbiamo troppa roba cance allora io adesso faccio una linea qualsiasi ok ti impongo vincolo di essere verticale un grado di libertà tolto gli impongo di avere una certa quota 20 e questa è ancora due quote necessarie come la devo dire praticamente dare qualche informazione rispetto all'origine e alla sua posizione il vincolo di orizzontale e verticale servono anche per questo allora supponiamo di vabbè io potrei dire che il punto il punto medio di questa sta nell'origine e l'avrei completamente vincolata ma potrei anche dire allora facciamo un'altra linea ok imponiamo che questa sia su questo spigolo imponiamo che questa sia orizzontale e diciamo che questa sia uguale a 10 12 quindi due quote necessarie devo posizionare questa L rovesciata potrei potrei per esempio dire che questo punto è l'origine che questo punto è l'origine ma potrei anche dire che il punto centrale è l'origine come faccio a dirlo vincolo di orizzontalità vado sul punto centrale e lo allineo con il punto centrale dello schizzo una sola quota necessaria vedete questo è fissato vincolo di verticalità punto centrale e l'allineo con il punto medio e l'allineo con l'origine quindi ho usato il orizzontale e verticale anche per posizionare cioè questa ma che c'è questi due vincoli servono anche oltre che per imporre a una riga di stare orizzontale o verticale una linea di stare orizzontale o verticale servono anche per posizionare dei punti per allineare orizzontale o verticale dei punti notate che quando allora se prestate attenzione prima che io inserissi i due vincoli eccoli qua non c'era qui nessun punto adesso rifaccio l'operazione orizzontale punto medio vado a cercare eccolo qui e lo allineo con il punto centrale e qui nasce un punto e finisco anche così completo il vincolo di questa L rovesciata verticale quindi ho ripetuto il posizionamento dei punti allineati con questi due vincoli con il punto centrale ok finito se vado qui e gli faccio nascere i vincoli vedete clicco che c'è un simbolo allineato orizzontale e vi fa vedere quello che è allineato allineato verticale e in più è nato questo simbolo che è un piano con un cubo questi sono i cosiddetti vincoli di riferimento cioè io ho proiettato della geometria in questo caso il punto centrale e lui quella geometria l'ha riportata sul disegno e la usa come riferimento se clicco su questo punto vedete che su questo simbolo vedete che qui mostra due punti particolari e qui una x è il punto centrale che ha il suo bel vincolo di riferimento ho proiettato quindi nasce da questo proietta geometria ancora ultima cosa l'abbiamo già vista se io vado a quotare la distanza tra questo e questo punto chiaramente è 12 clicco con l'invio lui mi dice attento l'aggiunta di questa quota ipervincolerà lo schizzo scegliere eccetta per creare una quota non parametrica cioè l'unico modo per andare avanti è quello di dirgli che la quota che sto mettendo tra che non è la lunghezza di questo segmento che è 12 ma la distanza la quota che sto mettendo che la distanza tra questa retta e questo punto vedete il verde è una quota non necessaria quindi è una quota ausiliaria se l'unico modo per dirgli accetta e lui l'aggiungerà con il 12 fra parentesi tonde questo già ve l'avevo fatto vedere attenti che diverso è se adesso io la voglio cancellare a cancello diverso è se io questa quota la tolgo completamente vincolato tolgo la quota cancello una quota necessaria adesso sì che se vado a mettere quella quota sempre tra questa e quel punto e schiaccio 12 non mi dice niente la mette dentro perché gli serve per completare il posizionamento dello schizzo per vincolare completamente lo schizzo ovviamente non è un buon modo quello di vincolare distanze fra punti qualche volta serve ma in questo caso fra punti e entità geometriche non è un granché quindi questa come l'ho messa la tolgo e vado a rimettere quella quota di lunghezza che è giusto che ci sia lei completamente vincolato e siamo tornati al 12 vincola ambito deduzione vincoli geometria nel comando corrente lasciate questo i vincoli vengono dedotti dalla geometria in quello che sto facendo in questo momento vincoli e quota automatici mai 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 cioè non usate questi automatismi vi potreste trovare con delle strane sorprese quindi anche nei guai quindi mai io non lo uso mai lo tengo sempre lì fermo come se fosse come se non esistesse gestione dei vincoli allora impostazione dei vincoli visualizza i vincoli al momento della creazione mostra i vincoli per gli oggetti visualizza i vincoli coincidenti sicuramente sì quote modifica questo lo vedremo quando faremo le quote e soprattutto avverti in caso di condizione ipervincolata quindi vincoli tutto ecceso avverti deduzione mai niente deduci i vincoli spento quindi priorità di deduzione i vincoli quello che volete ma tanto la deduzione è spenta i vincoli li stabilisco io modalità di distensione disattivata la modalità di distensione tutto sommato può servire quando ci si trovano i casini scusate il linguaggio cioè quando non si riesce a completare lo schizzo perché o lui ha messo qualche vincolo che non vogliamo o noi abbiamo messo qualche vincolo che ci impedisce tutto quanto contrasta con quello che andiamo a fare dopo vi ricordo che non si può per vincolare lo schizzo e quindi eventualmente quando si è in quei casini lì cioè che non si riesce a completare il vincolo perché ne manca uno ma se aggiungo quello che penso sia giusto diventa ipervincolato quindi non me lo fa aggiungere e quindi sono in una fase di difficoltà allora lì sì che posso andare a attivare la modalità di distensione per cercare di capire con cosa contrasta quello che sto mettendo relativamente a un vincolare lo schizzo in maniera corretta perché quando vado a mettere quello che me lo ipervincola anche se io penso che non me lo ipervincoli mi dice mi fa vedere qual è quello su cui che va a distendere che va a togliere e quindi capisco a quel punto che cosa devo togliere per poter rimettere lo schizzo nelle condizioni corrette che il vincolo che voglio mettere me lo porti a zero come grade di libertà comunque normalmente questi casini succedono perché in qualche maniera lui ha messo dei vincoli che noi non sappiamo che lui ha messo quindi dove potete non fategli mai dedurre niente e quando disegnate due rette non disegnatele anche devono avere uno spiccolo coincidente linea da qui a qui a qui non disegnatele così ma disegnatele una ok ripeti linea due poi due quattro quattro otto gradi di libertà questa è fissata questa ne ha sei quattordici meglio questa perché se poi questo spigolo deve andare in mezzo deve andare qui deve andare in qualsiasi questi punti non sono così qui devo rompere e quindi questo è sicuramente meglio meglio se volete avere schizzi ripeto robusti ripetibili e che abbiano comportamenti prevedibili siano sempre gli stessi qualsiasi sia il livello dello schizzo nel nostro modello che abbiamo realizzato un'ultima cosa per eliminare uno schizzo basta selezionarlo scusate un vincolo basta selezionarlo e cancellarlo ritorniamo eravamo a otto più sei quattordici siamo a quindici perché questo se io vado a mostrare i gradi di libertà si può muovere e si può muovere in questo modo perché non è più orizzontale non questo mantiene vedete l'allineamento questo mantiene l'allineamento l'unica cosa che posso fare è questa ok anche con i vincoli io ho finito padroneggiarli è sicuramente la cosa non dico la più importante ma una delle cose più importanti per costruire dei buoni schizzi ripeto l'importante è che gli schizzi siano robusti quindi imparate a usarli bene e applicateli con criterio anche qui si impara facendo perché scontrandosi con schizzi via via più complessi si capisce quali sono le strategie la strategia che uso io è una strategia per cui poche cose le vincolo orizzontalmente e verticalmente una due questi due li uso per posizionare i punti medi i punti finali allineare dei punti quando questo non è possibile usarlo o questo non è possibile usarlo e uso tantissimo il parallelo e il perpendicolare e l'uguaglianza se posso ci sicuramente si tangenza non ne parliamo fissato è difficile se non sull'esprime concentrico è uno che utilizzo parecchio ma comunque ripeto questa è forse la riga della matrice dei vincoli che io utilizzo di più e l'orizzontale e l'orizzontale e il verticale li uso moltissimo anche per almeno una volta in ogni schizzo per posizionare per dirgli che punto va dove in questo caso per dirgli che questi due punti vanno proiettati con l'origine stanno sulla proiezione dell'origine ok anche con questo filmato io ho finito se lo avete gradito se pensate di aver imparato qualche cosa lasciate un bel mi piace e iscrivetevi anche al canale in maniera da poter ricevere in tempo reale tutti gli aggiornamenti relativi ai nuovi filmati che man mano sto pubblicando buon lavoro buon lavoro Grazie.